500 milioni l'anno, il fatturato di tutta la filiera del caffè soltanto a Trieste. E a Trieste confluiscono in questi giorni 230 espositori provenienti da 22 paesi di tutto il mondo e circa 8.000 operatori del settore per la quinta edizione di Trieste Expresso Expo 2010. Ce ne parla Franco Fiorellino. Trieste, vetrina internazionale del caffè. Alla tre giorni di Trieste Expresso Expo 2010 sono arrivati circa 8.000 operatori del settore tra manager e torrefattori provenienti da 22 paesi di tutto il mondo. Alla fiera triestina sono confluite industria, commercio ma anche cultura e c'è chi ha scritto un libro su come degustare l'amirabile bevanda. Ci sono mille piccole cose e dobbiamo chiedere al nostro amico barista che le segua tutti. Si parte dall'attenzione estrema a tutte le attrezzature, a tazze che devono essere in perfetta porcellana e si finisce per fare una sintesi con sorriso. E' fondamentale il cliente re, dobbiamo avere ogni attenzione e quindi cerchiamo di inserire in quei 6,5-7 le migliori sensazioni che possiamo donare. Ma è il mercato del caffè a occupare principalmente gli operatori. Trieste resta punto di riferimento per i manager che la accreditano come unico appuntamento in grado di presentare e mettere a confronto tutta la filiera dell'industria del caffè espresso. I tempi sono difficili, il prezzo delle materie prime sale e c'è il rischio di un aumento anche del caffè in tazzina. Nel costo della tazzina abbiamo più che altro i costi di gestione del locale. Sicuramente però a livello di costo della materia prima ci saranno sicuramente degli aumenti sia nel settore famiglia che anche nel settore bar. Il fatturato di tutta la filiera del caffè a Trieste è di 500 milioni di euro l'anno. Grazie a tutti.